La maiolica racchiude in sé la storia dei gesti artigiani che la lavorano da secoli. Una magia di vivaci pennellate avvolge la ceramica smaltata di tradizione mediterranea. La forma ceramica più celebre, la maiolica, viene reinterpretata e presentata secondo un'originale chiave contemporanea. È miniature fregio. La ricerca ha selezionato diversi soggetti ornamentali della maiolica tradizionale e ne ha scomposto e ricomposto gli elementi per proporli in inediti mix decorativi. Un tuffo nella nostra memoria, elementi classici e inconfondibili, quelli delle maioliche italiane, ispirazione e raffinatezza delle cose belle, fatte per resistere. Con disegni che sembrano bassorilievi, sbeccature e crepe a regola d'arte. Colori rubati direttamente alla natura, al mare, al bosco. E a quel posto speciale, in fondo al cuore, che si chiama Mediterraneo. A quel posto speciale, in fondo al cuore, che si chiama Mediterraneo.